Il loro è un eterno saliscendi da cui dipende l'esistenza di tutti noi e senza il quale sarebbe impossibile il racconto di qualsiasi favola. Tutto ha inizio lassù, tra le nuvola. Su questa bella nuvola soffice ci sono tante gocce come me e la vista d'acqua sua è magnifica. Perché le gocce d'acqua sono così importanti? Medicina mi fa da bene. Giusto, senza acqua non si può bere. La casa di goccia si sta per squarciare, sta per piove. Alla vostra destra di qua e alla vostra sinistra di là. E' tutto chiaro? E' a destra! A sinistra! Varia calda! Varia presa! Varia calda! E' a destra! A sinistra! E' a destra! A sinistra! Varia presa! Varia presa! Varia presa! Varia presa! Varia presa! Varia presa! Sono lord Rorocchio, duca dal Pietrino. One, two, two, three, and... Yes! A un tibetto come te io non l'ho mai visto. A un tibetto come te io non l'ho mai visto. Che strano che ce sei? Io gli dai l'acqua più umana, lo consiglia anche la rana. Vero dice Cocciolina, sia nel bagno che cucina. Se hai ascoltato attentamente, se ci credi fermamente, Cocciolina la salverai e ho trappeture con lui. Vivrai, vivrai, vivrai. Grazie. Grazie.